Ciao, a Che Cosa è Tenerife? Questa sera parliamo di musica. Mi trovo in un ristorante Bonitalia. Eccolo il nostro amico, fantastico. Buonasera a tutti, per favore. Il ristorante Bonitalia. Bello, dove si trova Bonitalia? Il ristorante si trova nel Corte Sur, specialmente nella zona del Farway Village, vicino al San Blas. È una zona abbastanza conosciuta, perché è un centro commerciale importante della zona, che si trova vicino all'hotel Vinci. Vinci? Io ho sentito che c'è un ambiente molto rilassato e abbiamo una fantastica cantante che sta cantando per, che cos'è, Tenerife? Anche questo. Proseguendo, chiedo a Diego, vediamo se riusciamo a trovare le impostazioni giuste. Vedo che ci sono nuove attività. Certamente. Il sabato, quindi stiamo proponendo la musica, ci sono altre attività che vi proporremo a breve per i nostri clienti. Tra i quali siamo iniziando anche un'iniziativa che ci tengo a fare molto bene, che è quella del domicilio. Faremo domicilio in tutta la zona del Gordesur. Buono. E' solito, il garantino che è appena stato fatto. Facci vedere. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie.